...e vi rilasce con una serie di presenze significative nella filmografia italiana e nel modulo dell'ospettale. Viene a mina del pubblico e la segue con simpatia e freddo, vive con facilità i ruoli che ne sono assegnati raggiungendo eccellenti risultati. Vince il premio Napoli Cultural Classic, categoria miglior personaggio televisivo 2011, Sara Santostasi. Grazie a tutti. Ecco, è la statuetta. Grazie a Dario. Grazie a tutti. Io sono molto contenta. Devo essere sicura che ho spinto tanto per aver capito questa sera. Grazie mille, Sara. Perché questa ragazzina balla e la pianista ballando con le stelle. Ballando con le stelle, per me sia la dolce grice morale. Grazie mille, grazie. Canta e recita. Perché proprio ieri è uscito un conferma da protagonista che è interessata, come si chiama? Si chiama Balla con noi, è uscito ieri, speriamo andrà bene. Mi raccomando andate a vedere. Ho ascoltato molto, ho sentito tante delle testate. E come nel caso che ci sono di un po' vero e c'è una ragazza pura. E a me piace che in questo mondo ti apparelli c'è qualcuno che è forte avanti le stelle, dei valori, secondo me è una parte in più che vale anche la mia vita. Grazie.